Un gruppo di amici tedeschi ci si aiutava come si poteva e questi tedeschi sul pulmino azzurro, Volkswagen, avevano scritto in giallo enorme, Speranza. Questo pulmino passava per i quartieri di Partinico, raccoglieva i bambini e i bambini già dopo le prime settimane sapevano già che poi l'educatrice, l'educatore, avrebbero chiesto ma tu oggi cosa vuoi fare? A turno ciascuno, ma io vorrei dipingere, ma io vorrei continuare con le lumache, ah oggi viene amico io voglio fare musica e si creavano anche dei gruppi più grandi, fare musica con 40 bambini è molto più divertente che un quintetto solo. Puntualmente, ogni anno, e questo generava preoccupazione, ansia, ma anche gratitudine, meraviglia, qualcuno dei bambini, bambino o bambina, dipendeva dalla situazione, capitava che, e lo raccontavano spesso le mamme perché c'erano anche le riunioni pomeridiane con i genitori dei bambini, la mamma raccontava ma un piccirizzo a Sira ci ha domandato a sopaggio, ma a Mirto noi decidiamo tutte le cose insieme, papà, perché a casa nostra comandi solo tu? E la signora era tra il fiero e il preoccupato, dice ma qua mi sfasciata la famiglia, cosa succede? E questo era importante perché i primi 3-4 anni il centro ha sofferto a raccogliere i fondi per mantenere la scuola, costruirla, farla funzionare con la mensa, fino alle 4 e mezza del pomeriggio, ma poi si è instaurata una convenzione con Roma e i rapporti con Roma funzionavano veramente bene, venivano degli ispettori, erano ammirati del lavoro, dei luoghi, c'era uno spazio enorme, più grande di questo, diciamo più stretto ma più lungo, in cui i bambini al coperto era tutta una zona mochette ed era un semplice luogo dove c'erano dei legni, degli oggetti, dove si poteva ruzzolarsi, giocare, costruire delle casette, dei galeoni, astronave, cose incredibili, e questo spazio poi una volta che Mirto ha avuto la convenzione, ma questa convenzione con Roma non funzionava, si intoppava sempre in qualche modo a Palermo, per esempio loro pagavano gli educatori direttamente da lì, bene, per quanto riguardava il gasolio dovevano fare il bonifo, non so, il versamento, certamente non arrivava in tempo, e Mirto stava due o tre giorni chiusi, perché veramente così in campagna lì c'era, non dico proprio il ghiaccio, però faceva molto freddo, non si poteva andare, e papà è nervosito, qualcuno nella segreteria telefonava, diceva ma sì noi abbiamo fatto il mandato, poi si è scoperto che a Palermo c'era sempre qualche intoppo, qualcosa che non funzionava, poi la strada da parte del comune che non veniva realizzata, Mirto è stato costruito in 7-8 mesi, e la strada di accesso a cura del comune, di un chilometro e due, un chilometro e tre circa, ci hanno messo quasi 19 anni per finirla, e io ogni tanto cito questa frase, non è che solo con la lupara si impedisce il cambiamento, dicevano proprio delle volontà di impedire, rallentare, senza dire niente, dicendo sì sì sì, no, ripresentate la domanda, va benissimo così, passavano altri due o tre mesi in più. Adesso c'è l'altro luogo, il borgo, che, scusate, Mirto è stata ceduta, perché il nome del centro è Centro Studi e Iniziative, il centro non voleva diventare il gestore della diga, il proprietario del consorzio, o chissà che, o avere Mirto e tenerselo, via via affidava alla popolazione, all'amministrazione locale, le iniziative che cominciavano a camminare da sole, però c'è da dire che se Trappeto si è dimostrato un poco più vicino, anche più affezionato a questi lavori, a parte Nico veramente non gli era in porta un fico secco. Allora, una volta che hanno acquisito dal Centro Studi questa bellissima scuola, subito l'hanno chiusa. Tre, quattro anni è rimasta chiusa, ha rischiato di essere vandalizzato, non hanno mai finito il ponticello, credo sei metri, sette metri di ponte. Papà ha scritto un libro intitolato Il Ponte Screpolato, dove è narrata tutta la vicenda del ponte che non veniva mai realizzato, e tutte le proteste, le cose che noi mettevamo in atto affinché lo facessero. L'unica soluzione è stata da parte di una donna, un sindaco di Partinico che è stato eletto del centro-sinistra, la prima cosa che ha fatto è riapriamo Mirto, è una bellissima scuola e ne abbiamo bisogno, finiamo il ponticello, dopo 19 anni quasi, in 20 giorni hanno fatto il ponticello, e finalmente Mirto, scusate, il borgo a Trappeto rischiava di fare la stessa fine, è decaduto, papà l'aveva ceduto a una cooperativa che lavorava abbastanza bene sul volontariato, ma poi non hanno ottenuto dei finanziamenti. E questo posto che era un punto di incontro, un punto di riferimento di centinaia e centinaia di persone, italiane, stranieri, da tutte le parti del mondo, e sull'educazione, e sull'agricoltura, e sulla musica, sul mosaico, un posto residenziale dove 40-42 persone potevano dormire e lavorare insieme, con delle stanze enormi, avete visto una fotografia lì dove fino anche a una quarantina di persone potevano elaborare insieme. Questo per lungo tempo ha subito un degrado incredibile e noi finalmente, dopo anni e anni, ne siamo ritornati in possesso, l'abbiamo ristrutturato, abbiamo ottenuto un finanziamento, perché oggi poi alla fine, facendo bene le cose, ci sono le leggi giuste, i finanziamenti giusti, e di nuovo questa iniziativa funziona e dalla primavera prossima ricominceremo ad avere queste persone che girano, che studiano, che si conoscono fra di loro. Ecco, tutte queste cose messe insieme dicono che ci sono persone attente, persone che vogliono collaborare, persone di grande iniziativa, ma c'è una grandissima parte di persone, e spesso anche fra gli amministratori, che tendono a mantenere lo status quo perché è difficile, e nessuno lo nega, perché hai più lavoro da fare, e nessuno lo nega, ma perché non ti conviene, ma poi allora dovresti fare questo. E questa è la maggiore difficoltà con cui sempre si è dovuto scontrare il centro. Ecco, le centinaia di persone, giovani, giovanissime, che hanno dato un contributo, noi abbiamo cercato di esprimere tutta la massima gratitudine, diciamo, in uscita, però abbiamo a che fare con interi paesi, vicino Partinico e Trappeto, che non sanno assolutamente nulla di queste iniziative, né di che cosa è stato, né di che cosa è adesso, né di che cosa potrebbe essere. Ci sono certi paesi che non hanno un luogo dove i giovani potrebbero riunirsi, e in ogni posto di questo occorrerebbe un nucleo di nuovo, di autoanalisi, un gruppo di giovani che si interroga, e questo lavoro noi cerchiamo di farlo soprattutto nelle scuole, oggi. Però, che dice, siccome abbiamo messo tantissima carne al fuoco, io direi, vediamo cosa ci interessa qui e adesso. Prego. Sì, prego. Facciamo un po' il microfono, perché poi resistono tutti ragazzi. Meglio. Volevo chiedere, rilacciandomi a quanto dicevi adesso, quali sono le emergenze adesso, ecco, secondo te? Cioè, negli stessi posti, diciamo. Negli stessi posti. Adesso la scuola di Mirto è una scuola statale. I due studi di 15-18 bambini erano comunicanti tra loro. Adesso hanno chiuso gli spazi. Quella zona mochette che dicevo non esiste più, perché tutti gli spazi li hanno utilizzati per fare altre classi, e oggi forse è il caso di chiamarli classi, che ha a che fare con flotta, esercito, questo linguaggio. Perché in ogni classe ci sono 27 bambini, c'è una sola maestra, e quindi non si può fare lo stesso lavoro di prima. È una bellissima scuola. Se prima lo spazio era previsto per circa 90 bambini, adesso ce ne stanno 240. Da un certo punto di vista è una gioia, perché 240 bambini possono accedere a quel luogo, viverlo giornalmente, settimanalmente, ma non si può fare, non si ha lo stesso rapporto che si aveva prima. Vediamo i problemi sociali, emergenze educative, rispetto a quando operava tuo padre. Ce ne sono tantissime, molto simili e anche diverse. Se parliamo di paese è una cosa, se parliamo della città è un'altra, Palermo in particolare ha una densità di bambini, immigrati, eccetera, notevole. Queste sono nuove emergenze, non si era preparati, noi partecipiamo pure, abbiamo dei progetti con diverse associazioni che si occupano nello specifico in questo. Succedono cose bellissime, ma anche lì l'amministrazione, fino a due o tre anni fa, l'amministrazione assolutamente non dava una mano a nessuno. E questo per una decina d'anni. Mentre prima, prima c'erano delle iniziative, altre amministrazioni hanno aperto alla città, ora si sta un po' ricominciando da capo. Noi come centro per lo sviluppo creativo abbiamo molti progetti su questi problemi lì in Palermo, nei quartieri, con immigrati, ci occupiamo di traduzione, abbiamo psicologi, didatti, lavoriamo nelle scuole elementari, io lavoro molto nei licei, perché il problema che aveva studiato papà negli ultimi 15 anni, relativo alla comunicazione, alla trasmissione, alla comunicazione, lui andava nelle scuole e faceva in modo che i ragazzi si esprimessero su un tema, su un altro, con l'attenzione alle parole, e a poco a poco, in maniera molto interessata, i ragazzi scoprivano che una cosa è trasmettere, che è qualcosa dove si rischia di rimanere passivi, è qualcosa che tu e la scuola in genere trasmette. Una cosa è comunicare come avveniva in quelle due ore di laboratorio, come facciamo noi quando andiamo in una scuola. in una scuola e bisognerebbe fare in modo che in ogni scuola si prendesse atto che intanto mettersi a cerchio rende molto più facile veramente, visivamente, meccanicamente la comunicazione, ma se non si parte dagli interessi dei bambini o dei ragazzi, come si pretende che questi ore e ore si bevano il dire, il parlare di qualcuno, che sia un programma scritto, che sia l'insegnante, e a volte ci sono dei ottimi educatori fra queste persone, ma questo scontriamo un problema. Era diverso 30 anni fa, ma la stessa problematica c'è oggi con ragazzi completamente diversi, ma secondo me il punto di partenza è lo stesso, fare parlare loro, vedere quali sono i loro interessi, perché poi una volta mosso l'interesse, tutti i ragazzi che io incontro si prendono la briga di sforzarsi, di fare la fatica per far sì che quello che desiderano si possa realizzare. Un paesino, c'era un gruppetto di bambini, di quarta, elementare, quinta, prima, media, che non avevano spazi, e riunione dopo riunioni è emerso che gli sarebbe piaciuto avere quello che noi chiamiamo oggi un parco Robinson, dei giochi del verde per potersi arrabbicare, eccetera, e lo hanno realizzato. Allora, si può generalizzare tantissimo, i problemi di Palermo sono infiniti, ma con un certo approccio, cioè questo, di fare partecipare la gente che soffre quei problemi, siano bianchi, neri, gialli, di colore, di destra e di sinistra, e vedere di risolverli insieme. Io penso che in questo senso, in questa direzione, c'è moltissimo da fare, e il contributo dei papai e dei suoi collaboratori è determinante, perché è un'esperienza che il cambiamento è veramente possibile. Di volta in volta si deve vedere in che forma, dove, per che cosa va applicato, eccetera. Altre domande? Prego. Anche riflessioni o se volete raccontare qualcosa. Ma io vorrei più che altro capire un po' di più dell'esperienza di come coinvolgere le persone, nel senso che, le spiego, questa è una cosa personale. Io un anno fa sono andata ad abitare in un paesino in montagna, qui, nel Veronese, e mi piace moltissimo stare lì, trovo che è un modo completamente diverso di vivere rispetto alla città, i bambini sono diversi, c'è un problema però, ed è una cosa che mi piacerebbe fare. Le persone si frequentano pochissimo, d'inverno qui fa veramente freddo, è difficile uscire di casa, e però le persone proprio non si trovano, una volta forse nelle contrade si trovavano insieme perché abitavano molte famiglie in una stessa contrada, adesso magari in una contrada ci abita un'unica famiglia con due figli, io vivo da sola, cioè da sola, con mio marito, ma viviamo sperduti in mezzo ad un bosco, quasi, e mi piacerebbe questa cosa, cioè ho in mente questa cosa di poter coinvolgere le persone del paese per cercare di fare nascere qualcosa, mi piacerebbe capire se c'è uno scritto o se lei ha voglia di raccontare qualcosa di come si può agire, io pensavo con i ragazzi, anche se lì sono pochi perché ovviamente c'è poca gente, abitano poche persone, però mi piacerebbe capire come ha fatto suo padre e se c'è qualcosa di scritto, qualche esperienza su questa modalità. Qualche scritto è anche lì nei libri che pagina 12 ha procurato, non sono, cioè sono tanti ma non sono così facili da trovare. Ma per fortuna papà, il centro studi ha documentato tutto questo lavoro che fosse di denuncia o proprio il risultato dell'esperienza di Mirto sia quella precedente per far esistere il centro educativo, questa documentazione di cui parlavo, le riunioni con i bambini, con gli insegnanti, con i professori, mesi e mesi di riunione, sono tutte documentate in un libro intitolato Chissà se i pesci piangono, documentazione di un'esperienza educativa. Poi è stato costruito Mirto, dopo due o tre anni di sperimentazione, di difficoltà nei confronti dell'amministrazione, è stato pubblicato il ponte screpolato e da lì in poi tutto quello che il centro faceva o papà faceva anche viaggiando è stato raccontato. Vero, i libri sono tantissimi, forse è opportuno cominciare da un testo o dall'altro, ci sono delle antologie, per esempio qui ho visto ciò che ho imparato, da lì penso si possa cominciare a capire qual è la proposta che è molto semplice, molto semplice, in genere una ventina di persone, ragazzi, bambini, a seconda dell'ambiente in cui si vuole lavorare, ci si presenta, poi si sceglie un tema e nelle scuole in particolare noi ci soffermiamo sulla superficialità con cui utilizziamo le parole. Allora proponiamo e spesso l'insegnante è anche d'accordo, ma secondo voi che differenza c'è fra insegnare ed educare? Ormai sono 8-9 anni, io prima facevo laboratori o con papà o solo laboratori di musica perché io sono musicista, però poi mi sono prestato diciamo a questo ambito, all'inizio era un po' mi sentivo un po' inadeguato e quindi imbarazzato ma poi ho visto che perfino per me è semplicissimo quindi invito chiunque a farne esperienza e all'inizio c'è un po' un'area di sufficienza soprattutto gli insegnanti lo sappiamo e vabbè cominciamo e i ragazzi parlano si interessano sempre di più e poi ogni volta loro stessi ed è questo il metodo della ricerca si rendono conto che insegnare significa lasciare il segno segnare dentro qualcosa di esterno che ti ti prende ti colpisce può essere positivo o negativo non è questo il punto mentre educare tirare fuori sarebbe tutto un altro atteggiamento che in genere è quello che non si trova nella scuola educare ma perché noi diciamo oggi ho insegnato l'educatore invece per noi sono dei sinonimi ma dopo due ore di riunione con i ragazzi che sono attentissimi già rendersi conto che se la scuola fosse più educatrice piuttosto che insegnante sarebbe meglio per tutti il secondo termine che noi proponiamo ed è bene incontrarsi dopo non più di due tre giorni di solito che differenza c'è fra trasmettere e comunicare trasmettere ma andare oltre inviare un po' di etimologia non fa male a nessuno mentre comunicare dovrebbe significare mettere insieme i doni i beni e perché noi anche lì li utilizziamo come sinonimi comunicato del preso della scuola domani tutti alle sette e mezza in classe perché se no tu puoi dire guardi non sono d'accordo veramente ma non è comunicazione questa perché non si dicono messaggio del preso vi trasmetto questa cosa allora in genere oggi la società spaccia per comunicazione quella che è me la trasmissione che di nuovo se è continuativa se è unidirezionale papà dice è violento e nella scuola spesso la scuola si trasforma in criminale in questo senso perché non è né comunicativa né educatrice ecco allora questi sono dei temi grandissimi ma in pratica è semplicissimo aprire e fare aprire dei ragazzi aprirsi a dei ragazzi e poi con la loro complicità con la nostra partecipazione aprire ad altre ricerche tantissimi temi alcuni hanno proposto di parlare di creatività ma non li ferma più nessuno ma non è che si parla a vanvera con una quindicina massima una ventina di ragazzi ci si sofferma ciascuno sul proprio punto su quello che interessa a se stesso e spesso sento che dei ragazzi dicono ma io ero amico di Mauro ho sempre pensato fosse il mio miglior amico ma oggi mi sembra di conoscerlo quasi qualcuno poi ride al limite dell'offesa non sapevo che poteva dire delle cose così intelligenti ma la cosa poi è reciproca e lo stesso anche gli insegnanti più svegli io dicevo lo conosco da tre anni ma in realtà da tre anni che ce l'ho dietro di me no? e questo guardarsi in faccia questo vedersi è una struttura importantissima quindi ti invito certamente a provare magari dai un'occhiata e poi ciascuno si reinventa la proposta ma lo su ma è sì sì ma guarda anche una rivoluzione non violenta sono due antologie perché poi prendere un libro importante potrebbe essere già dal trasmettere al comunicare che si trova in giro oggi ormai possiamo dire che quasi tutti i libri più importanti ce ne saranno ancora cinque o sei importanti da tirar fuori ma oggi ci sono e ci sono sia quelli storici i primi 4 o 5 che sta facendo Sellerio Bandite Pattinico Racconti Siciliani Sciopera la rovescia il processo dell'articolo 4 ma quelli dagli anni 80 in poi cioè da Mirto in poi io trovo che siano fondamentali sono più importanti degli altri perché li includono tutto il processo va avanti fino agli anni 90 in cui papà ha intitolato un libro la comunicazione di massa non esiste perché la comunicazione di massa non esiste esiste la comunicazione fra le persone ma certo internet è importante il telefono è importantissimo ma di nuovo bisogna partire dalle persone dalle relazioni comunque è un tema affascinante grazie grazie all'interno della scuola si si delle vostre attività extra diciamo no 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 queste iniziative noi le proponiamo nelle scuole tutto è partito dal fatto che inizialmente papà era scomparso qualcuno si ricordava allora ci provano ah venite a farci una conferenza su Danilo Dolci ero un po' ma la conferenza ma veramente non potremmo fare dei laboratori maieutici e quello è più aperto ah si interessate di che si tratta spiegavano un po' bene e questo era già un modo di stare interesse verso questa metodologia poi quando loro dopo 3-4 incontri guardano il documentario mettono insieme tante cose e alcuni anche adulti ricordo un assessore di Montevago poteva avere 27-28 anni era nato lui dopo il terremoto aveva vissuto tutta la la problematica della ricostruzione e dal film vede che Danilo Dolci e i suoi e il centro studi nel 1968 cioè 5-6 mesi dopo nel suo paese Montevago avevano presentato un piano di ricostruzione con tanto di come si chiama il modo di plastico plastico fatto dagli architetti dagli urbanisti tutti coordinati da Bruno Zevi e dice ma com'è che io non ne so niente ma il mio paese mi ha nascosto per 28 anni Danilo Dolci e allora quando si cominciano a sapere poi loro hanno partecipato ai nostri laboratori ma io ripeto consigliere comunale e lui mi diceva ma amico ma se riunioni nostre funzionano è bellissimo viene un'energia una cosa ma io lo proporrei al consiglio comunale certo si imbarazzava lui a proporre e però poi mi telefona dopo qualche mese dice amico sai è successa una cosa stupenda racconta avevamo un problema con gli allevatori queste con le mucche che dovevano firmare un regolamento ora non so esattamente che cosa ma questi non venivano agli appuntamenti insomma si rischiavano di perdere finanziamenti c'era qualcosa che si era intoppato dice sai che cosa ho fatto no racconta io ho fatto una riunione con gli allevatori e ho chiesto a loro ma voi un regolamento che cosa vorreste che ci fosse che tipo di regolamento secondo voi è adatto e questi tutto in dialetto in siciliano hanno detto una cosa lo hanno fatto insieme lo hanno firmato tutti naturalmente e la situazione si è sbloccata e bene io tenevo il telefono in mano e dicevo non l'avrei mai pensato ma è proprio l'approccio molto spesso che è semplicissimo ma che va rovesciato papà ha cominciato così chiedeva a ciascuno ma qui come possiamo cambiare non è andato lui a dire ah ma voi non avete l'acqua ma no bisogna avere l'acqua e credo che poi moltissime di queste persone probabilmente anche tu molte cose le fanno senza saperlo si può essere educatori e maieuti senza sapere che uno si può addossare questa etichetta non è quello l'importante però vanno tirate fuori queste potenzialità i bambini hanno veramente potenzialità potenzialità a non riprimergliele a bizzeffe e si possono sviluppare a maggior ragione importante anche se il periodo storico è diverso però abbastanza vicino durante il vostro racconto il pensiero un po' corre anche all'esperienza di Don Milani per tanti aspetti ecco volevo così io ho intuito delle analogie ma anche delle differenze c'è un approccio che dal punto di vista pedagogico mi sembra più soft volevo capire se c'era stata una riflessione su questo parallelo ma intanto nel 67 io avevo una decina d'anni ricordo che papà distribuiva questi libri libretti che fossero aldocapitini magari un po' più complessi per noi ma lettera professoressa lui ci raccomandava sempre la lettura di questa cosa non si sono mai incontrati però credo che avessero un progetto in qualche modo di farlo perché avevano anche degli amici comuni anche lì io conosco amici miei sono molto più esperti di Danilo Dolce che non io tanto meno di Don Milano questo credere nell'altro che sia un povero che sia un abbandonato qualcuno che non ha fiducia in se stesso e insieme rinascere è una cosa che accomuna Don Zeno Don Milano e papà eccetera forse la differenza è che la metodologia proposta poi da papà e dal suo gruppo è nata da una combinazione di esperienza cioè le riunioni fruttificavano in un certo senso quindi gli si dava anche una certa metodicità a questo incontrarsi settimanalmente per anni e anni sia con gli adulti che poi con i ragazzi probabilmente era molto più solo Don Milano con questa sua generosissima attività anche di contrasto nel suo ambiente nel suo mondo ma la proposta per esempio la non accettazione delle imposizioni dall'alto ecco per papà l'obiezione di coscienza era una cosa importantissima e lo stesso per Don Milano Don Milano non poteva ammettere che qualcuno fa qualcosa contro le proprie convinzioni sarebbe bello interessante poter mettere insieme queste esperienze in maniera più approfondita io ho diversi amici che potrebbero lavorarci qualcuno lo ha fatto perciò in qualche modo se lei è interessato possiamo continuare il dialogo magari scambiarci questi indirizzi c'è un gruppo di palmi molto molto presente nel lavoro di papà negli ultimi 15 anni in Calabria e loro sono molto affezionati a Barbiana e periodicamente vanno e vengono su quindi loro per esempio sono degli interlocutori molto molto interessanti in questo senso appena voi volete non mi viene in mente subito un altro interrogativo io sono musicista mi sono portato un piccolo flautino se volete con una scusa che tutti possono suonare basta un po' di pazienza come anche colorare e disegnare vi suono due note ma se volete poi vi dico anche perché che è grazie a tutti